Buonasera, buonasera. Allora eccoci con i numeri di questa ennesima giornata di emergenza sul fronte Covid-19. Vediamoli le cifre di oggi. 124.632, tanti sono i casi in Italia. E poi i numeri, 2.886 nuovi positivi che portano il totale sopra gli 88.200. E poi 1.238 guariti. Sfioriamo i 21.000, le 21.000 persone che non hanno più la malattia. E poi anche oggi 681 morti, meno dei 766 dell'altro giorno. 15.362, il tristissimo conto totale degli italiani che sono morti proprio per il coronavirus. Questi i numeri di oggi, ma ce n'è uno che non compare in questa tabella, che però è il più importante di tutti. E per la prima volta, invece del più che continuiamo a vedere da oltre un mese, è un meno. E riguarda i pazienti in terapia intensiva. I più gravi, quelli che debbono ricorrere al mezzo estremo delle conoscenze sanitarie per cercare di sopravvivere al coronavirus. Bene, sono diminuiti fra ieri e oggi.